quando morì Pipino il breve gli successe Carlo suo figlio e subito si trovò in una situazione di guerra allora ricordi Pipino aveva conquistato dei territori che appartenevano ai Longobardi quelli che erano intorno a Roma i Longobardi all'epoca avevano minacciato l'incolumità del Papa e poi anziché tenerli per sé li aveva regalati al Papa adesso cosa succede che i Longobardi approfittando proprio del momento di passaggio della corona quindi di solito un momento di debolezza in un regno perché è appena morto il re si sta consacrando il suo successore che è inesperto quindi approfittando di questa situazione il re dei Longobardi desiderio marciò su Roma e addirittura arrivò a porla sotto assedio Carlo però non si fece intimorire da questo da questo gesto immediatamente con le sue truppe superò le Alpi e riuscì a dirigersi a Pavia la capitale dei Longobardi a metterla sotto assedio e poi a conquistarla nel 774 quindi da questo momento il regno Longobardo d'Italia diventò il regno Franco d'Italia. Il regno di Carlo come puoi vedere era diventato molto grande ed egli un re molto importante anche perché avendo difeso le terre del Papa gli venne conferito il titolo di protettore della cristianità. Fu così che Carlo pensò di combattere tutte le popolazioni che non erano cristiane e precisamente i Sassoni, gli Arabi e gli Avari. Vediamo come sono state condotte queste guerre. Gli Arabi furono respinti poco oltre i Pirenei. Si creò così la Marca di Spagna. Cosa significa Marca? Marca indica un territorio di confine che proprio perché è al confine del regno è destinato alla sua difesa. Viene affidato al governo di un marchese e di solito è un territorio con parecchi uomini armati proprio perché il compito principale è respingere eventuali nemici. Per quanto riguarda i Sassoni possiamo dire che più che una guerra fu un massacro reciproco. I pochi superstiti di questa popolazione furono deportati in massa in altri territori e costretti con la forza a convertirsi al cristianesimo. Peggio andò agli Avari che furono letteralmente esterminati. Cioè gli Avari fu una popolazione che venne letteralmente cancellata dalla carta geografica. Oltretutto pare che gli Avari custodissero il famosissimo tesoro di Attila, il re degli Unni e che Carlo riuscì a impossessarsene e a portarlo nelle proprie terre. Un bottino enorme che venne trasportato su 15 carri trainati dai buoi. Allora queste sono le conquiste di Carlo. Allora questa come vedi è la marca di Spagna. Qui ci sono i Pirenei. Tutto questo territorio è il califato arabo. Quindi vedi che la marca è proprio una regione di confine che serviva per difendere il territorio da altre incursioni degli arabi. dal territorio che era il territorio dei sassoni vedi che si allungano delle frecce che ti dimostrano che i superstiti di questa popolazione sono stati trasferiti in altre zone del regno. Questo invece c'era il territorio degli avari e qui di avari non ne rimase nessuno. Protettore della cristianità, conquistatore e oimè sterminatore di popoli. Insomma Carlo diventò addirittura una leggenda. chiunque avesse bisogno gli chiedeva aiuto, ricevette ad esempio le chiavi del santo sepolcro perché diventasse il difensore dei luoghi santi della cristianità a Gerusalemme e addirittura il califo di Bagdad era in ottimi rapporti con lui ci furono anche degli scambi di doni eccetera. Nell'ottocento Carlo fu chiamato a Roma doveva presiedere un concilio di vescovi e il giorno di Natale mentre stava assistendo alla messa il papa Leone III gli pose sul capo una corona e lo nominò imperatore del sacro romano impero. Cosa significa? Beh allora imperatore è un titolo che è ancora più importante del titolo di re, imperatore di un territorio che in parte ricordava l'impero romano ma che era sacro perché a differenza dell'impero romano era un impero cristiano e ricordati lui era difensore della cristianità. Grazie a tutte queste imprese Carlo passò alla storia con l'appellativo di magno che in latino significava grande.